Siamo arrivati all'Esselunga Non so chi gli fa la foto Testimonianza per le donne che è tutto chiuso Quindi siamo totalmente in buona fede Siamo venuti solo a vedere questo quartiere Siamo venuti solo per un fatto folclorissimo Solo il folclore Ma c'è molta gente E' un quartiere che tira sempre C'è anche il famoso detto Tira più un quartiere Che da partita